Ciao a tutti e grazie a tutti per questo episodio di... come si chiama? Come si chiama? Ehm... PD2, The Heist Allora, siamo con lice a benzina e altri due livelli di 60 Penso che uno sia tipo tedesco, l'altro non lo so, tipo francese, non lo so Non lo so Panzerf, mi sa tanto di francese, sì, no, di tedesco e Fab, non lo so Ha scritto salute, quindi penso che sia un fappone Allora, mi sono modificato l'arma e ci ho messo dentro Tipo, pensavo fosse un silenziatore Poi ho scoperto che è una cosa che aumenta il danno e fa ancora più rumore Quindi non lo so Tipo, GG Ehm, ora, vediamo, preparazione team, nessuno c'ha le munizioni Io le prendo le munizioni Ah no, tutti c'hanno le munizioni, scherzavo Dallas c'ha quelle Vabbè, io prendo le munizioni, ok I'm ready Vogliamo fare la stealth, stealth Io sono livello più basso e ho paura di fare cazzate Quindi cercherò di stare il più lontano possibile Delle fappate Prima o poi ci riusciamo, ragazzi Prima o poi la facciamo stealth stealth E sta lagando lo stream Ah, so io, perché Che c'ho So io So io, so io, so io, so io Ecco qua, così deve andare meglio Ripendi partita Eh sì, così va meglio Ok Noi andiamo molto scialli Hello Mmhm Sì, vorrei fare un prelivo Di quanto? Ma, sai com'è Qualche milione Tra l'alleo, tra l'alla Dunzi, dunzi, tanza, tanza Il telefono squilla sempre Sarebbe fighissimo poter rispondere al telefono E tipo far qualche fappata Ok, panze Con calma, con calma Mamma mia Quanta fretta per uno che Vuole rapinare una banca Ecco, diciamo che di solito Sarebbe il caso Di attaccare la maschera Ecco, io non ho siniziatore di niente Ecco, ho messo la canna Non so se la vedete lì, in basso Così forse No Ecco, insomma Cerchiamo di non sparare Io non ho manco un silenziatore Qua tutti hanno un silenziatore Io no Ok, con calma Abbiamo le tre Lol Con calma Con calma Abbiamo ucciso il tizio Delle telecamere Videocamere Insomma, quello L'ho loperto da dentro Io sto calmo In probabile di stare calmi Lo stealth è possibile È una questione di Di sincronia zen Con cui Canalizzi il tuo chakra Per fare le tecniche della Lavoro Pupupupupupupu Tutti morti Cosa stiamo aspettando? Ah, sta facendo le videocamere E spotta qualcuno Ok, l'hai spottato Molto bene Mi sembrava spottare Dovrebbe essere il tuo lavoro da grande Spottare la gente da ammazzare durante le rapine Ok Tu cosa vuoi? Mi vuoi stuprare Quella maschera è John Dilliger? No, fai schifo Cos'è? Ok, quelli sono i due Uno, due, tre Non fa pari a me, guarda lì Mamma mia Fab61 Fab61 È un bel nickname Fab61 Proprio 61 il livello Togli le prentese e metti lo posto del fab Pupupupgg Ok Non mi hai visto Uno, due, tre Sono tre guardie Dovrebbe, dovrebbe esserci tipo un taunt Sarebbe fighissimo avere un taunt Un taunt sarebbe tipo Tu fai un'azione che fa tipo un suono Un rumore e quindi lo attira da te E tu lo fappi di brutto Di cattiveria tipo Con quell'umore In tanti modi diversi Sì, con calma Mamma mia che casino Cioè manco fosse questione di vita O di fappa Sul serio Per memoria Ho capito Ok, scriviamo So What Do we do Ehm No perché noi stiamo Oh che carino che sei Davvi un bacetto Davvi Ti vorrei sparare Guarda la mia mano Quanto è piccola E confronto la sua testa Cioè questo sta guardando Le videocamere Una è rotta Ok Ci sono tre civili qua dentro E le guardie fanno Bisogna rompere queste cose Cioè non bisogna rompere Bisogna impedire Che facciano Panic button E qua la porta sembra aperta Quindi C'è possibilità di Il problema è come Cioè possiamo Dobbiamo perdere altro tempo Non lo so Dimmelo te We have Waiting the get out Ok E se io ti facessi Mamma mia Quella voglia di sparare Una bestia di colpo Dove è fab Dove è fab Ah è lì Ok Quella ti può entrare da qui Non lo so Attento Attento Dov'è 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 fab Ah ancora lì Ah ha visto qualcosa Ha visto qualcosa Oh sono in due Sono in due Uno è qua vicino Vicino al Vicino al niente Ok Mamma mia quanto è difficile Muovere il mouse Queste cose Ok Sono tutte e tre lì Oddio Potremmo prendere tutti i civili La Oh 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 Shit Merda Merda Ah Infatti Abbiamo aspettato tipo un casino di tempo E cosa alla fine Prendiamolo da dietro Oh my god Muori Caffona Ah l'ha preso lui GG Lo prendi molto più velocemente di me Ok I have the munitions Vabbè andiamo a prendere Cioè alla fine è sempre così Prendiamo un casino di tempo Mamma mia De Non lo so Manco lo facessero apposta Da serie Sula sta registrando Va bene Fottiamo qualcosa Lag Allora Direi che ci conviene Tipo Per una cosa del genere Così Cioè eliminiamo Una via di Di fuoco Dalle palle Ehi Ti ringrazio The same time impossible Eh In overkill Cos'è Ah Già fece i soldi Ne manca una di soldi Ehm Ah Vediamo com'è La nuova arma Vabbè insomma Non l'avevo Asciuntato Chi è che spara Oddio Dov'è Oh shit Merda 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 Ricarica Ricarica Oh merda 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 Ah ah Suga Il trappano Ok Di l'altra Però Ci hanno già devastato la cosa Si vede che è overkill Oh ciao Soli tu sei so But you are the Motherfuck Chi è che spara Oh shit Non mi piace la situation Sì Prossimo Ah voglio prenderlo in testa Vabbè Easy anyway Oh shit Cazzo di juggernaut Mini juggernaut in realtà Però Ehm La mira Quello è un full juggernaut Guarda che per questo errore De facto Come la coda di un canguro C'è un po' di gente qua ragazzi Quella lei di pompone Dov'è Merda Oddio è difficile Oddio Eh c'è un fottutissimo bulldozer ragazzi Due fottutissimi bulldozer Mamma mia Quando si dice overkill sul serio Cioè li stanno massacrando Oh mio dio Ok Mi stanno aiutando Grandissimo panzef Sei un mito Ti stimo Ti stimo Ti regalerò una rosa Una rosa rossa Ok Uno dei due L'altro Ah ok L'altro Ah ma vaffangala Perché sempre io Cioè Full bulldozer Cioè è davvero così semplice Fermare una rapina No perché è Ti aiuto io Ti aiuto io Oh merda Siamo tutti morti Non altro di quelli Oh merda Ti aiuto Ti aiuto Ti aiuto a distanza però Hanno preso panzef Non mi piace la situazione Ti posso dire che non mi piace la situazione Manco per niente 40 secondi Minchia Ok Guarda la mia vita Guarda la mia vita Pergetti uno sputo Arriva Giuseppe di Simone E mi spara una Una scodeggia in faccia Sono morto Come at me bro Come at me bro Oh merda Ehm Well GG Ecco Questo ragazzi E come non eseguiamo La piena stealth Versione 2 E però che eravamo tutti Tutti formentati Sì sì Prendi i soldi Vai Andiamo a prendere i soldi Oh mamma mia Oh non ci posso credere Mi ha dato L'esperienza almeno Non lo so Cioè Dai almeno vi faccio vedere Un attimo No ma lo vuole riprovare No no io devo andare No 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 Allora vi faccio vedere Solo qua Allora modifica arma Ho messo questo Respiro di fuoco Aumenta il rumore complessivo Io pensavo fosse un silenziatore In realtà Massacra di più E incrementa la capacità Di soppressione Tipo perdo un po' di danno Così Invece però guarda il rumore Cioè da così Boom Tipo al massimo Qua ci sono anche dei gadget Però Non lo so Per tipo sbloccarli Ci vuole un botto Invece Nella secondaria Penso che io debba tipo Modificare qualcosa Tipo Voglio Voglio avere tanti di quelle Melino Ma chi si è la figa del melino Scorri Cos'è che fai I fuori di ventilazione Migliorano il controllo complessivo Capirai Che arma è questa voi Crosskill No io voglio la deagle Tipo maxata 1-1 Anzi quella con più roba Eh beh Sì è questa No Labernetti C'è la roba per labernetti Gadget Cos'è Laser tascabile Figata Attiva disattiva con Q Aumenta leggermente la precisione Il caricatore lo voglio Voglio tipo prendere un casino di roba per le cose ma non si possono tipo comprare Capale La mia maschera è epica Questa qui Anche questa è epica si Comunque per questo episodio è tutto Mamma mia C'è sti tapponi Riuscirò mai a fare una rapina stelta Accetto scommesse Di terratio A cui dovrei fare scommesse Tipo 10 a 1 20 a 1 40 a 1 Per questo episodio è tutto Vi ricordo di iscrivervi al canale Se volete restare aggiornati su queste e le prossime serie Vi ricordo anche di lasciare un mi piace Se avete chiesto questo Questo episodio Ciao Ciao Tutti Tutti